Noi abbiamo un collegamento da Trieste, Matteo Parlato, il nostro inviato Matteo. Adesso iniziamo a parlare anche di altre città importanti, importante come è Trieste. Trieste è certa, a questo punto si può dire che è certa la vittoria del centro-sinistra. Sì, Trieste è un plan del centro-sinistra che prende la provincia e il comune di Trieste. Al comune passa Cosolini con il 57% mentre Antonione si ferma a 42% e qualche decimale. Mentre invece alla provincia viene confermata la Poropat che anche lei ha circa il 58%. Quindi hanno fatto l'un plan. Bisogna dire che è continuata a calare la presenza degli elettori che si è fermata a poco più del 51%. Mentre invece ieri sera si era stato registrato proprio nel rush finale, prima delle 22, un aumento di due punti percentuali di elettori. Però è stata un'onda che è cominciata ieri sera e ieri sera è finita. Poi oggi le cose sono rientrate nella normalità. Il ballottaggio ha sempre meno voti del primo turno e io qui sono nella storia del Consiglio Comune di Trieste che ormai si è riempita di giornalisti ma anche di esponenti del mondo politico che si preparano a festeggiare l'avvicendamento al sindaco e la conferma, come dicevo io, alla provincia di Trieste. Grazie Matteo, ho parlato.